E ora la nostra rubrica sport in regione, parliamo di volley con Alberto Ambrocci. Dopo sei anni di Serie A senza palazzetto, costretti a giocare prima a Castellanza, poi a Bustarsizio, la stagione 2019-2020 sarebbe dovuta essere quella della consacrazione per la Powerwall in Milano. Finalmente una casa, l'Allianz Cloud, ma per tutti resta il mitico pallalido di Piazzale Stuparic, una tifoseria, una squadra giovane ma combattiva che arriva alle finali di Challenge Cup. Il campionato inizia bene per Milano, il pubblico è numeroso, oltre 3.000 spettatori a partita, a febbraio è quarta in classifica, poi arriva la pandemia, la Serie A si ferma, lo scudetto non viene assegnato. Settembre 2020 si riparte, Milano debutta in casa vincendo 3-0 contro Latina, tornano anche gli spettatori, limitati a massimo 700 per sicurezza. Controllo della temperatura all'ingresso e autocertificazioni, ma almeno si torna a giocare nonostante restino le preoccupazioni per la sostenibilità economica, non solo della Power Volley ma di tutto il movimento pallavolistico. Noi non siamo il calcio, quindi non abbiamo quei grandi incassi, non abbiamo neanche quelle grandi spese. Tuttavia l'anno scorso abbiamo fatto molto, ma molto, ma molto bene e avremmo fatto ancora meglio la parte finale del campionato. Ovviamente questo incide, mi auguro che sarà una cosa che riusciamo a ridurre. Tutte le società credo abbiano ridotto il loro budget, a parte i miliardari, ma abbiamo ridotto anche noi il nostro, abbiamo fatto bene e allo stesso tempo abbiamo puntato sui giovani. In panchina ha confermato l'esperto Roberto Piazza, sotto rete i punti di forza sono il giapponese Ishikawa, il canadese Mar, gli azzurri Piano, ormai capitano da tre stagioni e il libero Pesaresi. Un inizio di stagione non facile, non tanto per i risultati sportivi, al debutto travolta Latina 3-0, ma per l'allarme coronavirus sempre acceso. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno messo la testa nelle cose che dovevano fare, assolutamente, che si devono fare in questo momento, e cioè essere bravi a isolarsi, a tenere la concentrazione, a non lasciare nulla al caso, quindi rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, per cui va dato atto loro di stati veramente molto bravi sul pezzo. Gli obiettivi della società non riguardano solo i risultati sportivi, ma più in generale il radicamento nel tessuto sportivo della città. Il concetto è quello di creare questo ragionamento che abbiamo fatto con i giovani, con le scuole, l'attività su Milano, l'attività con il CSI, l'attività negli oratori, tutto questo è il nostro obiettivo, è il mio obiettivo particolare, un progetto che serva alla città. E allora, buona pallavolo a tutti!